And it's you that I want and need Bella ragazzi eccoci tornati su Wii 4 FUNNY Finalmente con un gioco che aspettavo da tantissimo tempo Un tipo di gioco che non giocavo da... Tipo Tekken 5 I Cavalieri dello Zodiaco Soldier Saul Lo Spirito Guerriero Vai partiamo con la campagna Spero che vi potrà piacere questo gioco Penso di sì ma adesso comincia il tutto Quindi silenzio e godiamoci Questa è la storia iniziale perché ha visto il cartone Allora eccoci qua queste sono le quattro saghe principali Partiamo con la prima santuario che è quella delle 12 case Sono tutto... La battaglia del santuario è appena cominciata Allora siamo finalmente nel menu Era un po' lunghetta la cosa Nuovo? Sì Voglio iniziare sono qua per questo Tanto tempo fa nell'era degli dei Si narra che tra le divinità scopera Lucan 040222 Miai... Però ti saluto Ciao L'unica cosa in giapponese che si capisce Atena Tutti arrivano Atena Questo è il nostro territorio Disson Troppo C'è il tirato Aveilitar Ost S comunitta S vida S.A che Un lo s'è Sono Sono C'è Lo Come dicevo questa è la storia che viene spiegata nella prima saga. Per esempio per i più piccoli non so in quanti abbiano visto questo anime o anime, ve lo accendo sulla E. Io penso che questo gioco potrà portare anche grandi botte fra me e Baxter. Scusatemi. La freccia famosa, i battlejews. Ecco vi sta andando tipo 40 episodi così. La prima casa dai, questa è la prima casa, verosetto. Le mie ambizioni stanno diminuendo. Il primo dovrebbe essere Ariete, lì, il coso, quello, con le corna. Mu, ecco, Ariete, mi ricordava qualcosa. Lui, che teoricamente ci dovrebbe lasciare passare. Sokka, ha detto Sokka. Bello però il doppiaggio in Giapponese. Esatto, ripara l'armatura e li lascia andare. E la prima ora se ne va così. La grafica e il doppiaggio sono come tutti i giochi di questo filone qua, vedi, Dragon Ball, vedi, principalmente Dragon Ball. Anche Naruto mi sembra, ma non ne sono sicuro, non me lo ricordo. E poi c'è Toro. Io spero di arrivare, dato la prima puntata sarà un po' più lunghetta. Arigato, arigato, l'ho capito, arigato. Scusate. Eh, fa freddo, è l'inverno. Eh. Scusate. Eh. Cosmo No, no, no Hai dato una parolaccia, l'ho sentita No, neanche nel secondo si gioca Nel terzo Voglio portarvi un combattimento E qua dovremo tendenzialmente combattere Fino a tagliargli il corno Forse Me lo sento, ci sono Mi metto comodo E non ne sarebbe muovere Eh sì, ce l'hai davanti Quindi tendenzialmente adesso combattono Sì partiamo è la marocca è la marocca stai calmo, stai calmo stai calmo, stai calmo, non ti preoccupare la superpudenza di Doro vuole vedi il sacro Doro ha fatto malissimo prendi questo Fulmine di Pegasus supercolpo contro supercolpo mi sembra giusto bella KO ce l'abbiamo fatta andiamo al grado grado C sono stato veloce in realtà vabbè comunque ragazzi finalmente abbiamo fatto il nostro primo combattimento per la prossima puntata la prossima casa spero che il gioco vi piaccia a me questi giochi piacciono tanto 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 quindi ci vediamo alla prossima con i cavalieri dello zodiaco mi raccomando un mi piace condividete il video commentatelo e noi ci becchiamo alla prossima quindi bella ciao ciao